Navarra Ufff, ahi viene Aaaaaa Aaaaaaaaa Viva il vanno Viva il vanno Viva il vinto Viva il vanno Viva il vanno la peca di lo che sia oggi andiamo a tirare con linea di mano a vedere se il pique è buono non c'è nulla che abbiamo utilizzato va a fare un pollo con licharina la foto è buono vediamo per il golfo il golfo il golfo il golfo il golfo il golfo Sì, si harina, signore. Sì, sì, sì. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.